Luce ti invita ad una partita. Oggi proprio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, aspettiamo il quartino. Allora, voglio Weld, è il primo che entra, dai. Ti prego dimmi... Ok, l'hanno rimesso. È normale. Che cosa? Rebirth? È bellissima. Sì, per mettere quelle prove del cazzo, figa. Guarda. Ma quale è? Vedi che si vede tutta a buio, non vedi un cacchio. Non si vede nulla. L'hanno messa a notturna? È molto bene. Peggio, non è proprio notturna. È con la nebbia, quindi è ancora peggio. Boh. Mmm... Ti dirò. Io sto giocando con il grau... Oh, con il mirino olografico. Allora ti trattò peggio, grazie, ragazzi. Meno male che sei tu. Il sangue è freddo, è il mirino olografico. È baffanculo. Ho l'STG ogni tanto uso. Beh, intanto startiamo, vediamo se... Mmm... Tutto a posto, Marius. Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Andavo già a barbiarendo ad andare a sistemare i capelli. Comunque Marius sta... La barba? No, non vedete. I capelli, vi so che è orribile. Ma che cazzo deve fregare la Juve? No, la barba... Ma Bravo sarà bene il fratello di Ren? No. Sì. No. 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 Sì e no. È il fratello di Michele, non di Ren. C'è la Juve, addio. Ma va a fa' il culo, razio. Sono meglio io. Ehi, Leandro! C'è la Juve, a noi ci guarda. Eh? Dov'è qua che compare Juventus? Sta guardando. Agnelli mi viene a vedere le live e mi dona un milione di bit. Agnelli, io non starto la live fino a quando non feceva questa Juve. Ma mi deve donare un milione di bit. Sennò... Agnelli, ci guarda. Sono 100 euro? No. No, mille. Sì, che dì? Più di mille euro? Di più, un milione. E ti scherzando? 100.000 euro. Ah, ah, è un uno zero in giù. Un giocatore che è bloccato se avete la partita, vuoi uscite la lobby, no? No, abbiamo paura. Ma è il lobby... What? Come è possibile che ti esca? Ah, adesso. Cosa pensi della scelta di meta di chiudere l'app di Facebook Gaming? Hanno fatto bene alla fine. Cioè, l'app di Facebook Gaming poteva essere una bella idea, però, cioè, non ha senso, bene o male. Non aveva molto senso per il semplice fatto che sull'app di Facebook c'è già la sezione gaming. E quindi, provare a trasferire tutto dall'altra parte, secondo me, era un po' un'idea così. Ti dirò, a me non dispiaceva se non fosse per i bug che c'erano, cioè, quello era l'unico problema, secondo me. Però, sì, era molto meglio concentrarsi sull'app diretta di Facebook normale e... That's pretty good. Eeeh, buona. Madonna che è scomodo il paddare a playstation, giuro, io non so come ci giocano. Eeeh, that's pretty good. Lo so, ragazzi, però, farei meglio del mio paddare che mi lamentavo ogni giorno. È nuovo, nettamente. Dovevo vendere, alla fine non sto tenendo, almeno lo delizio. Sì, ragazzi, era una di quelle cose che poteva essere una bella idea, ma alla fine semplicemente non c'è stato... Sì, vabbè, cioè, viene rimossa perché effettivamente si sono accorti che... Basta l'app normale. Devono un attimo gestirla meglio, nel senso che serve un'interfaccia. Sì, sì, ma infatti è stata una prova perché... Quando loro ci avevano detto di promuoverla, eeeh... Volevano vedere come, come riusci, se riuscivano a produrre loro l'app direttamente, così. Cercando un collegamento fra due applicazioni diverse. È normale che vada un po' così. Perché comunque stai facendo un'applicazione che si connette a un altro server che... Che lavora su un'altra applicazione. Cioè, è un casino. È un casino di roba da fare. Quindi, secondo me... Ci sta che era un lavoro assurdo, difficile. E... Ci può stare che abbiano deciso di non concentrarsi troppo. Mi pare abbastanza sensata. Allora, ti dirò, le vibe di sta mappa mi piacciono. No, però me la dici se ti piace. No, no, ma infatti secondo me sarà potrebbero riuscarla. Però le vibe sono belle, cioè nel senso... Il feeling della mappa così al buio, secondo me è carino. Ma il problema è la nebbia, non è il buio. Se lo mettevi come... Sì, lo so. Ho quei soldi. Controll non c'era prima. Sì, c'era... C'era quella... La lavoraggine, chiamatela come volete. Ai Paper Wars, un 2.0. Se è solo... Se è solo Modern Warfare, sono contento. Se è altre cagate... Posso anche fare a meno di spendere... E buttare via soldi. No, Warzone 2 non ne paghi. Mv2 paghi. No, dico... Se è solo Mv2 nel senso le armist. Rabbè, qua sono contento. Se invece fanno la cagata come l'ultima volta che hanno messo pure Vanguard. Però sai che lo faranno. Ok, ma Cold War ci sta. Cold War ci stava. Perché comunque... Vanguard non ci devono aggiungere. Vanguard era stupidissima. Cambi lo shooting, cambi tutto. Cioè, non va bene. Ciao, boo. Oh, ce n'è uno qua sopra. Ehi, è abbastanza bene. Ehi, abo. Subito qua fuori ce n'è uno. Scappate. Mi sento scomodissima, Giore. Vai, vai, vai. Eh, ora l'ho sentito. Mi sento scomodissima, Giore. Mi sento scomodissima, Giore. Mi sento scomodissima, Giore. Io non vedo niente, sosta. Mi ha tirato uno sul boccione. Oh, mio Dio, salto. Mamma mia. C'è l'evento di Claude nei prossimi giorni dove parleranno del futuro della serie. Mv2 e Warzone 2.0. Mi sembra scuro se rebirth. Sì, è l'aggiornamento che hanno fatto. Allora... Allora... Io ho paura. Ho paura per il franchise, perché se fanno un'altra cappellata tipo Vanguard... Guarda, non due saranno un top, raga. E' un'altra cappellata. 100%. Stanno facendo tutto questo discorso di Rebis, questo l'apertà, e la gente rimane qua. Allora, come ci sono tanta gente di qua, sei convinti di passare lì, ma ritorneremo tutti qua a giocare. Hai rinunato, non lo so dentro, eh. Eh, ho visto. Uno su di me era rotto, Mario, sei morto. Ok, è morto, perfetto. E' la pistolina. Cioè, vorrei dire... Su COD, armi che vanno senza mirare... Ci sono... Eh, su Mv volevo dire. Ma non sono così forti come queste su Vanguard. C'è il BPSH, avete visto? Corre e sparo. Dove è Don Kaiser? Ciao, Zeke. Ciao, Alec. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Era bravino però lui, più che altro stava camperando il respawning. Allora, aspetta, Foggi, invita. Chi è che invita i Foggi? Foggi, Foggi. Foggi. È di Grau, giusto? Meno male che lo invita. Ehi, questo è abbastanza buono. Ehi, Alex, grazie per la like. Sono piccato di roba, insomma, credo. Live sul futuro di Cyberpunk e l'anime. Call of Duty Next, Ubisoft Forward e qualcosa di Nintendo. Sì, Ubisoft, allora... L'unica cosa che li tiene in piedi è ogni tanto pubblicare Assassin's Creed e i Far Cry. Il problema è che Assassin's Creed... Sto parlando... Ma l'hai educato di merda? Ehi, that's pretty good. Scusate, ragazzi. Il problema di Assassin's Creed, ragazzi, che sta diventando noioso. 200 FPS, Brambo, comunque. Nuovo PC. Sì. Abbiamo preso un nuovo PC e abbiamo assemblato 200 FPS. Cyberpunk invece ha un sacco di futuro, ragazzi. Se voi non avete idea di quanto futuro ha Cyberpunk. Ah, ma Marietto, sei mutato. Sì, sì, per non sentire io che parlo. Nintendo... Vabbè, Nintendo mi sa che è mortale, perché finché pubblica un Mario diverso... O finché continua a riportare Odyssey, se ne va Mario Kart, ciao, continua ad andare avanti. Assassin's Creed, invece... Assassin's Creed, invece, è una serie che vedo che va a picco. Cioè, non possono portare niente di nuovo, secondo me. Ehi, questo è abbastanza buono. Tuo fratello è ancora bannato? Sembra di sì. No, 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 ma davvero è ancora bannato? Ma perché? Ehi, è andato 48 ore. Sì, l'ho visto, è vero. Ha detto che manda il cazzo, cioè vorrei dire. Beh, beh, ti dirò, ti dirò. Nintendo, secondo me, è una vita propria. Sì, l'unica cosa che non mi piace di Nintendo è come si è chiusa se stessa. Nel senso, non so se avete presente... Vero? Non so se avete presente che i content creator che portano a Nintendo non possono portarlo. Perché? Wow, davvero? Wow. Sì. Nintendo, anche per fare video, recensioni sui giochi, deve avere un sacco di approvazioni. Perché è proprio un sistema a sé. Infatti, tipo, ci sono stati alcuni youtuber che prima erano Nintendo partner, diciamo così, e hanno perso la partner perché magari non si trovano bene con un gioco. Ah, io odi sì, odi sì, veramente ha perso tantissimo. Ehi, il connesso Nintendo sta lavorando a un nuovo mercato. Di guardarlo. Minchia. Ma ecco lo c'è, grazie per il like. Adesso c'è anche Reddit, così. Ho guardato... Praticamente sto guardando le sue clip per fare i video. I maronne ci ha... Mi ha mandato una trentina di clip di lui che prende gente in cielo. Così. Io... Lui è assurdo quando prende la gente in cielo. Ma infatti, ma infatti... È incredibile. Troppo, troppo, troppo pericoloso. Alex, i carabelli Luca con il like e la condivisione, mamma mia. Unito di me. Uno davanti a me. Uno accanto a me. Uno stronzo che mi sta sparando. E il Gesù Cristo che... Oh, hai fatto un giocco di merda. Oh sì. Dovremmo essere... Ora mi senti meglio, Maria? Mi senti diverso. Sì, sì, sì. Meglio, meglio. Sì, sì, sì. Sì, sì. Davanti a me, davanti a me, davanti a me. posso dirvi che è la mia prima hai la tua prima cosa? hai la tua prima volta? oh cucciolo ciao Mirko non so voi ciao Mirko che la vuoi c'è Mirko o Mirko lì ciao Larry no non l'ho detto guarda da che parte eeeh scusa Marius eh non ti devi scusare di quando muore Marius comunque ho provato per le clip e non me ne genera eeeh ma stai usando il bot perché il bot da offline non funziona ah parlano di Warzone Mobile minchia come come sprecare il tempo per le persone ma minchia se l'hai data senza i tasti dietro io con C c'è gente qua alla nave eh se non fosse se non fosse che non vedo ah ops vedo 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 oh non vedo non riesco a stare dietro ragazzi si c'è eeeh 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 non arrivi mariae no che la dovevi fare si ah non mi ricordavo si dice stavo dormendo io po' sono da collegare che ti vuole le quattro e qualcosa è fatto notturna ieri io invece ho detto dai non mi addormento perché sennò mi si riapre il il taglio mi sono addormentato subito appena mi sono sdraiato ecco si ho minuto giovane vette giuro oh comunque io quella quella roba lì non l'auguro nessuno Marius cioè quello che ho passato ieri non lo auguro veramente nemmeno il mio peggior nemico eeeh cioè sono stato veramente male volete munizioni? alessio grazie per il like c'è uno qua davanti raga ok qua mano guarda la sensibilità ci sento traiatevi appena inizia la scarsione e non sarete rilevati non con te ste? eeeh Alessio con like e condivisione mamma mia è una tanta roba tanta roba quel pc è veramente topissimo giuro eeeh Giuseppe ha parlato con un amico tuo io beh cioè raga la 3070 e vabbè la 3060T non è superiore alla 3070 eeeh poco considerate una cosa che la 3070 da me è over è rotto è bloccato è bloccato quello sempre e io non le posso fare le clip presenti eeeh io infatti faccio sempre quelle di 120 perchè quelle mi funzionano sempre c'è un amico lì ma sono un amico non è bene che vado a scuola dai ma si ti cambierà però su di me su di me è al tunnel eeeh è abbastanza bene eeeh tunnel tunnel ah raga aspetta c'è un sacco di caos in questa partita madonna quello quello c'è due persone io raga non vedo niente ti vedo un cazzo io e dai ti prego se non ti puoi camperà così da one shot con il cazzo buona io ho messo la gamma 70 cioè ragazzi vedo vedo orribile però no scusate vabbè è la mia prima è la mia prima io ho questa scusa di chi è la lobby? di marius? ah ok no per le sti cinquattro mi trovo male mi trovo male le movement eeeh se non provate in mira perdo un secondo eeeh questo è abbastanza bene la modalità merino è lentissima con quei grilletti non mi piace giuro non mi piace ah questa cosa anche per una frecciatina foggy da parte mia di marius eeeh se siete da pc su epic games regalano knockout city e tom rider scaricate knockout city chi si gioca? foggy bellissimo è bello ignorante secondo me è uno di quei giochi che giochi col tuo gruppo di amici allora secondo me è bello che giochi 3 bravo 3 contro 3 bello così contro il pc no io mi sa che pc dovrò rimandarlo al prossimo anno non mi fai condividere la live nei gruppi bello che c'è ma chi io? no ma parlava a... ah il pc dovrò rimandarlo al prossimo anno ma come mai? eh troppe spese? guarda hey è abbastanza bene ti dirò se aspetti un attimo ma non è che OBS è andato a... anche OBS 27 è... eh eh hai fatto l'aggiornamento all'OBS più avanti te? no assolutamente no io aspetto sempre un po' prima di farlo ok perchè non so se hai letto che ci aveva avvisato dai Marco ma dimmi una cosa dimmi una cosa ma io quando faccio gestione attività e nasconde i cheat perchè io so bravo a nascondere mhm ehm ma non sapete che raga? non per... non per gli... ma non per gli... ma non per gli... eh cioè non potrebbe avere i cheat non li potrebbe avere allora OBS 64 eh OBS Mario si ma io quando l'ho disinstallato me lo trovavo anche eh perchè è streamlabs è streamlabs ah ok eh eh si è streamlabs eh però ti dico Mario che... eh 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 ilenia e giorgio con il like buongiorno no no perchè ieri mi laggavano io faccio gestione attività per vedere se qualche aggiornamento... mi stai cercando mai di... eccolo un po' più sul pc si infatti infatti dopo un po' mi dicevano ma stai installando i sit rado vabbè ragazzoni no io metto pure i filtri però voglio capire una cosa poi c'è la scheda grafica li devo mettere no tu hai un emettino Mario non entrava da un bel po' eh lo so ilenia ma comunque c'è appena sbagliato un rigore oh c'è truce finalmente che sentiamo parlare che cazzo era mutato perchè guardava la partita eh 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 bastardo ssh ho l'audio? ok buongiorno buongiorno what? c'è di me mi ha rita 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 era appiccicato oh culo ci vuole il pello non è neanche tutto nero non è neanche tutto nero ma vabbè ha sparato la sedia raga mi ha sparato la sedia ma ha sparato la sedia eh ma ce l'ho il pello c'è l'ho il pello ovviamente trovo quello che trova al load out il nostro ci poteci? a no si amori ci truce baldazzi mi tocchi da sopra dalle scale foggy salvaci dietro di te anche non c'ho i colpi io raga non capisco nulla su sta mappa orribile madonna no ma io ho detto io ho detto è bella esteticamente così col buio e tutto ma è orribile da giocare perché la nebbia si è il buio magari ma questa nebbia è milano mi sembra un challenge che mi ha fatto caipo ti giuro da un po' e dopo che a bergamo non ci sono queste condizioni meto mi sa e ci stiamo terrorizzando anche qui eh si vabbè che altro dovrebbe riprendere adesso un pochino fare più vento piacerebbe essere terrori come noi non lo sarete mai ok truce si è preso malissimo qualcuno che ha colpi cecchino che non usa mannaggia voi io no scherzavo dammi il tuo cecchino dammi il cecchino oh il cecchino ma mi hai lasciato la mitraglietta ma uffa andiamo? andiamo su prison? io il loot ce l'ho che pro player ciao cicci sto sprecato cicci 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 in live si vede un pochino meglio secondo me sai cosa devo togliere? si le fettine anche io la testa cosa ho notato in live si vede meglio arrivo truce dove sei? sai cosa devo mettere forse? saturazione colori più bassi oh c'è una macchina qua davanti ragazzi ti ha fermato una macchina? porco schifo non t'ho sentito dai di nuovo cosa c'è da san gennaro? DJ Sara di nuovo ragazzi filo papantino vedete se è live da per fuori ma rischio chiede di streams da imperare no no con questo ci ho litigato abbiamo avuto una discussione lunga niente ti ha inseguito per due game di fila io non ho detto di cotte di crude giuro ma raga non vedo un cazzo è orribile madonna non vedo niente mi sa che devo togliere il bilanciamento del colore guarda che senso? spiegami che lo faccio pure io perchè ho metto un cazzo però in live noto che si vede meglio ho abbassato la brillantezza digitale adesso faccio una roba e provo a vedere anche dal monitor se posso fare qualcosa tra l'altro dal mio monitor posso mettere i mirini io io pure io ho un'idea ora mi cambio i filtri nel monitor hey questo è abbastanza bene quelle del monitor riesco hey marian chupacapra ehi chupacapra ehi chupacapra e basta lui no no vero ci ho chupacapra su viola ah era lui il chupacapra si ma sempre te nominare so per facebook no io io posso dire ma tu puoi dire io posso dire posso nominare anche altri siti loro mi hanno sempre detto che piattaforma viola è meglio dire e io dico piattaforma viola Vabbè diciamo che facciamo... Questa cosa qua mi fa pensare a quanto siano disperati... Eh ok Marius però se quei numeri... cioè i numeri che tu puoi mettere possono anche non essere veri perché io nell'organico sai cosa sembra? Sembra che siano i bot che loro usano quelli per promuovere i canali anche più piccoli prima non li contava come numeri non so se ti ricordi Ehi that's pretty good Ma non li conto tuttora Adesso invece sembra che li stiano contando invece questo il punto Magari così dovrei avere 20 specs ora C'ho 15 botti in live Eh lo so se lo avrei Ehm... 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 Nessuno Aspetta 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 raga Io ero rimasto... Aspetta munizione Se ne ha preso una... Quella Mirko Non nominate il nome del chupa Cioca Ehm... 11... Cioè io dovrei avere tutto 11 e 5 e 16 e 6 Ma non li conto Monta One shot quello Ma vatt Faccio un altro Non riesco veramente a capire Che settaggi mettere Hai rotto il cazzo Cioè due volte che spawno davanti a sto Niente Niente Non continuo Ma di quelli italiani Vabbè è abbastanza normale Non ne sono ovviamente sicuro però Mi è sembrato strano la kill Oh stanno fightando lì davanti E mi ammazza un altro tizio A cazzo di cane Come è a cazzo di cane Si ha sparato con quella L'automaton di merda Si si ho cambiato sedia E' un cazzo come l'automaton Minch è bello dotato A me è ferimela E' un cazzo di cane E' un cazzo di scley Riesce giocare E' orribile Orribile Eh knockout city Lo scarichi da epic games Ma poi devi scaricare anche origin Perché sono dei film Io c'ho origin Ah ma lo consigli è quello che ti prendi a cazzotti Con le palle Dodgeball Però dodgeball No quello Ma lo ricordate dodgeball? Io piccolino Cazzo io può cercare quella metà degli anni che c'ho ora No 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 Dodgeball Eh tipo No No scusate Slamball Ma ooooh Sì Ma guarda che lo stanno ancora facendo Hanno ripreso da poco Perché L'hanno annunciato L'hanno annunciato Ma quanto era bello Che li vedevi belli Saltare un certo Sì L'avevano fermato Perché Era un po' pericoloso Un po' troppo pericoloso Ehi È abbastanza buono Buona mattina Buona mattina Buona mattina Buona mattina Io Io comunque ancora non ho più Fillo d'out Soprita Se dovessero fare una mappa del genere Non fare O buio Eh Notte o giorno Fai Come si dice Fai notte E metti E metti che come un oggetto utilizzabile È la visione notturna Bello Il problema Però Però Se gli altri Se uno non ha la visione notturna Può vedere Il Il bagliore del dato La tua visione notturna Così avrebbe senso Crei un oggetto Che si autobilancia da sé Tu vedi al buio Però gli altri Vedono questo piccolo bagliore Come il cecchino Luciano Grazie per il fallo È shakerando È shakerando Ma questo Comunque Ma io dico Quelli che ti slinano davanti Non hanno capito Che io ho un po' 220 E che quando tu slinano Li vedo comunque È shakerato Di 15 gradi Vedi orelitto Riloccati di nuovo Forse Piuttosto di giorno nuvoloso Che piova Sarebbe figo Anche la pioggia Perché Crei un rumore Fastidioso Che rovina i passi Anche quella Potrebbe essere un'idea Però Il mio pensiero è La pioggia È uno di quegli elementi Che fanno laggare Fa laggare Purtroppo Non faccio danno Non ci credo È impossibile Raga Mauriz C'è uno qua Vieni a confermarlo Ciao Femmack La neve La neve Che bella Sarebbe con la neve Che bello Che sarebbe con la neve Sta mappa Oh ma scava Vuoi vedere E accogliamo Va vai Va vai Va bene Va bene È la challenge Che ho dovuto fare Questi stanno già giocando Quello da un ppsa Va bene Trovano quella Cacchia di cazzo Che ho fatto veramente 2000 di danno Così poche kill Due kill solamente Con 2000 di danno Giura Hai messo Di tour C'è gente in monte Gente in monte C'è gente qua a terra C'è gente qua a terra Ragazzi Sì Raga Le scalette ancora Mio bello Vabbè Vabbè Non è non buono, non buono comunque io non faccio dom in sta lobby è il cheat sono l'elicottero e l'ho fatto guarda 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 ieri ieri oh che stress ah ma c'è già loadout perché sta cassa qua si un dito nel culo è sta cassa qua anche più di un dito forse ce n'è uno qua su di me io però non posso fare 2600 di danno 2 kill sembra paradossare la cosa è rotto sta scendendo guarda 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 dove cazzo sei io di te oh confermo con lo stronzoli sta scendendo uno al nostro lo di me sto cazzo di fucile di merda bombarda 3 mila di danno 3 kill ma scambia ma dice masca bravo ancora è mutato smutalo vabbè che cazzo cambia segnala la pagina in game pagina tutto segnala tutto c'è veramente incredibile assurdo giuro è veramente assurda sta cosa c'è c'è proprio assurda sta cosa segnalato questo segnalato è che purtroppo ti 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 porta oh cruce cruce mi sta laggando mi sta laggando vedi non cazzo ho il monico grazie michelino benvenuto caro si ti va a scatti non lo so perché è finito questo di credito sparta il monico baffanculo vabbè che palle però quando vanno vabbè oh mio dio l'hai fatto marie quello lì due bella gg sono qua da solo a fightare con quattro team diversi mi ammazzano i camper mi ammazzano altri camper camper su camper raga come sei combinato sei safe io mamma mia no no guarda che cazzo mi ha ucciso col mirino il mirino termico io cazzo mirino termico è pure negra voloso sincero ma cazzo vuoi giocare qua lo shop lo shop corcio in così straveloce io non vedo dall'altro non vedo quando scendo com'è lo shop è l'oddy ma che bei camper di merda guardali figa ratti del cazzo quello lì quello che cazzo quello che camper a manetta che no c'è ci abbiamo quasi 30 kill contro dei camper del cazzo ok 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 va bene io me ne vado a f*** però non mi devi rompere più le balle no quello me lo ha detto che fuoghi dove sei sei nel sotto passaggio è pulito no no c'è uno accanto a lui 2G foghi vai va foghi uh loot sono morto mi sto appicciato a foghi stai arrivando dietro di me stai arrivando dietro di me è rotto dai 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 su di me è rotto è rotto su di me ragazzi Camper noi Camper noi Nelle private camper Che nelle private camper Non me lo ricordo Risultato di contro Uno l'ho craccato Io non vado giù Qui so safe No ma come è possibile No vedete la testa che stiamo tenendo giù Craccato sul tetto C'è un po' il dato, sì Va, che lo prendo Oh, c'è lo guarda così Morto? Mi hanno colpito Mi hanno colpito E' male questo C'è morto? No C'è quello, Mariano Mi ha colpito Mi ha colpito Abrazzo lo stesso, Marius Ci camperiamo Ci camperiamo come il 90 Settere uno In un cazzo Io dovevo essere safe, no? Bello Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Siamo tre contro due Vieni, vieni Sì Tronzi di merda Quatt'ora di fucking kill Andate a casa 3 si, grazie per la condizione Come sto? Ancora un po' mia merda Mi spiace 2500 di danni in meno Però ho fatto Una kill in più Ma Mario sei scarso Sì, c'è da dire che Tiri sempre giù uno E arriva il compagno Lì camperato insieme a lui Che te lo salva Quindi è impossibile Sì Dovremmo giocare anche noi Un pochino più da nabbi Diciamo le cose Sceglielo tu GG Federico, grazie per il like Ehi 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 Com'è FFA? Fiore FFA Ehi 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 Su Reberti il singolo Foggy fai veramente schifo Ehi Non si può Minchia Oh bravo non a privato il tuo fratello Io 13 kill Mi sono girato mezza Mezza Rebit Arriva Decon E mi trovo lui Dietro la porta Col card in mano Che ero appena arrivato Però Però nella kill cam Vedo lui Col card in mano E io che spunto come un bot Che corro E mi fa Ehi un camper, voglio fare 13 kg io e 13 kg lui, minchia quanto ho tiltato, col cardio, minchia voi dovete capire che io non pusho quasi mai, non campero quasi mai, scusate, diciamo che è un po' l'abitudine di pusciare, pusho col cardio, campero col cardio, vabbè pusho un po' il cardio, avete capito? no, è stata recensurata, non prollate l'attrezzatura, c'è tempo prima che... prego Mario, veramente che ti sarà girato mezza mappa, ma l'ho trovato 74.000 camper e poi... l'ultimo camper l'ho ammazzato si, ti ho trovato il filtro nel monitor, zitto, 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 ti ho trovato il filtro ti ho detto che ce l'hai il filtro con Maria? e anche se ti ho trovato il filtro, come c'è? ti ho chiamato? ma basta che si stemi un po' la prima in testa, è il meglio della relazione che è posto dovresti essere a posto già mamma mia ehi that's pretty good primo lo metto pure qua dai, state fermi che sto facendo i filtri, porco schifo allora ho freddo, hp e nance no, non c'è sempre che si vede meglio si, 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 vedo meglio, vedo meglio saluto di Marius ti saluta terzi Marius raga sono tre, sì ho tre, sì ok, l'abbiamo trovato, raga ho trovato il filtro nel monitor si preannuncia, poi si preannuncia una lobby di camper ho appena visto due o tre chili si vedo un fatti quasi sul verdino però io ho una mese in testa live vedo meglio e si, tutto sul verdino, butta stavo da Vanessa, tre finchia buono sto shakerando vedo verdino shakerando non me frega niente shakerando eeeh live da mezzo malato, trattatemi bene trattiamo bene per ambo eh ritorno perchè sei entrato in live da me? cos'hai detto? perchè non ti ho messo in live questo stronzo cos'hai detto Foggy? perchè sei malato? eeeh sono stato male ieri per colpa di un'estrazione si, sembra strano ma è successo un casino subito dopo su di me, su di me, è scarso, è scarso, è scarso ho vinto il mio si, è la mia, la kill salutami pure focus saluta Tracy, foghino mi sei bloccato oh 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 vabbè dai mi ha laggiato io non ho armi, ragà madonna che bello colpissimo giocare ti bello colpisco ti bello colpisco Mario! E io non ce la faccio più io non ce la faccio più veramente una brutta faccia del cazzo che non ce la faccio LMC Borbicine Borbici da seta coltelli da prosciutto poi comunque se vuoi foggy ti racconta un po' quello che è successo più che altro è un po' gore quindi vorrei evitare di che lo è live si 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 a parte gli scherzi è abbastanza schifosa marius la sai fa abbastanza schifo no fa abbastanza schifo la roba che ti ho raccontato che mi è successa ieri no no la prima la parte della mattina cioè quando mi sono svegliato e quando sono stato male per quello che ci vuoi fare succede non è schifo che giustamente lo dice si si no ma non va a sbagliare Dio buono forse non hai capito cosa era successo marius forse non hai capito allora dopo te no io l'ho capito ma lo ricordo ti sei svegliato con si coperto di sangue quello si però raga mi hanno ucciso dietro non so da dove mi riuscite a restare ne ho lasciato una terra me lo confermate lì davanti allo shop io bello veramente cioè io io veramente non sono abbasito dalla gente che è camperato h24 non lo so ce n'è uno qua accanto a me ce n'è uno dietro al muro con il gm camperato sono 6 fintoria la quantità in mare di camper su questo server diventa sempre peggio grazie minchia che belle citture raga non potete immaginare se torna a vedere è bellissimo si ti meriti tutta questa vabbè dai ho preso i colpi io non ci credo io non ci credo io non ci credo ratti di merda figa guarda che stavano accamperando sti figli di ragazzi contro l'è diventata una merda e non trovo ok le armi che prendo sono scatti devo fare la load out scusate scusate si si tranquillo intanto intanto racconto quella schifezza visto che mi hanno chiesto di raccontarla vabbè e praticamente no no la parte schifosa è quando sono stato male per la notte si lo so ma non devo raccontare cioè alla fine vabbè vabbè si adesso infatti racconto praticamente martedì ho fatto un'estrazione mi hanno tolto un dente che stava qua davanti ve l'avevo anche detto in live semplicemente sanguinava un pochino ma è normale quando fai l'estrazione è normalissimo due giorni dopo ho messo l'apparecchio e visto che questo dente qua era un po' a cavallo tra due denti non potevano fare sutura quindi non potevano chiudermelo con l'apparecchio ehm si sono stretti questi due denti e mi hanno schiacciato un po' quindi mi hanno fatto sanguinare ancora di più il problema è stato che ehm l'apparecchio teneva eh tutti i coaguli di sangue attaccati ai denti ok? quindi io avevo una striscia di sangue tipo rattrappito come si dice tutto coagulato è quando diventa semisolido ok? che è un blob praticamente una gelatina solo a descriverlo ti giuro che mi sta salendo il conato per il sapore che avevo costantemente in bocca è tipo no no ma proprio pesante come sapore raga io ho fatto quattro estrazioni quattro estrazioni ehm no non è stata tanto la paura quanto ehm la sera sono poi andato fuori a dormire e mi sono svegliato coperto di sangue cioè avevo la faccia qua coperta di sangue e tu dici come cazzo è possibile semplicemente mi stava uscendo il sangue dalla bocca e si è sparso per tutta la faccia ehm ho sanguinato per una notte intera fino circa alle 11 di mattina quindi fai che saranno state ehm quasi 20 ore di sanguinamento continuo ehm il problema è stato che durante la notte è andato giù un sacco di sangue eeeh e se tu mandi giù il sangue ovviamente si coagula dentro lo stomaco quindi quando poi sono stato male io che ho vomitato eeeh ho vomitato un un blocco intero di di sangue che sarà stato un po' un mezzo litro e quello misto al fatto che non riuscivo a mangiare mi ha fatto stare stato malissimo e infatti sono sono svenuto tipo nel mentre stavo mentre quando mi sono seduto per mangiare sono svenuto perché probabilmente non avevo non avevo più energie perché non non riuscivo a mangiare e non ho mangiato niente della mattina eeeh e in più non avevo avevo perso abbastanza sangue quindi avevo la pressione proprio bassa per questi due fattori è stata una combinazione orribile infatti sono andato dal dentista a fare un controllo quando sono arrivato dal dentista tra l'altro mi guarda e mi fa non stai più sanguinando ci credo non c'ho non c'ho c'ho la pressione la minima a 60 no 66 mi pare la minima 66 è abbastanza bassa quindi ci sta che non sanguini più ai denti no comunque non ho scritto sul gruppo perché non c'avevo più il telefono dietro in quella situazione sono stato male non avevo più il telefono appresso e mi sono perso anche io un povere a tenere d'occhio sto dente mandare laggiù foggy vi avevo mutato un secondo e Vanessa no stavo ascoltando davvero? e boh era abbastanza cioè io sinceramente non so se avete presente il sapore del sangue a me non da fastidio ok però era così tanto che si e più che altro non era sangue era un coagulo che ha un sapore anche diverso non è il sapore di ferro è diverso proprio se io vomito è live tu paghi le conseguenze e dico va bene che l'hai detto ma a fare proprio specificare tutto io mi impressiono del sangue ah giuro io se ti vedo il sangue non ti so soccorrere Sven non sto scherzando rada giuro va bene è normale è normale è una cosa stra stra comune in realtà no no allora guarda io mi so togliato il dito l'altro cioè il tempo di guardare e vedere se sei sangue sono svenuto davanti a Vanessa mio fratello loro ridevano come i passi e io a terra svenuto boh vuoi un attimo vuoi un attimo vuoi un attimo toglierti le cuffie così almeno sentono in live ma tu non senti che dico puoi dire è come l'hai detto tu eh si stavo per dire una roba del genere dillo dillo che a me viene dalla nausea a pensarci quindi quando in tutti i giorni che ho avuto l'apparecchio c'avevo i coaguli in bocca fissi perennemente e che sputavo e sembrava di sputare tipo marmellata di fragole per come era però era era slimeosa cioè nel senso era tutta una consistenza di quelle oscene guarda faccio l'oddy ragazzi guarda guarda mario sono messo come te in questo momento non c'è voglia di parlarne per quello che non volevo parlarne in live mi ha fatto veramente schifo mai vivere la situazione per quello che ha detto non l'auguro a nessuno perché poi tutti 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 che mi scrivono ma anche questa persona che conosco ha fatto l'estrazione non è nulla di che ragazzi non era un'estrazione quella che ho fatto io ma anche quello da considerare ma come c'è che è morto? questo v'ho ucciso no vabbè Foggy considera sta cosa io il dente che ho estratto era tra due denti quindi già di suo non potevi what? perchè è vivo quell'elicottero? eh l'ho buttato io e non esploso Sono i cheat Già di suo non Come si dice Non puoi tamponarlo Ok Io si Non l'hai mai visto Madonna stortissimi Sotto c'avevo una zanna che mi spuntava Poghi i miei denti erano stortissimi sotto Cioè già rimuovere quel dente lì È stato un upgrade incredibile Raga 200% Molto forte Guardate gli armi Rivello 12 base Già bizzarro Ah no Questo qua può essere Le armi Le armi Quelle già fatte Le sa qui Sì Le prebuild di Di code È arrivato uno ragazzi Salgono Salgono Che cazzo è andato questo Cazzo Ce la vogliono tre Ne ti devi dire questa Come faceva Come facevo Non sentite i passi Baffo Come facevo Sì Ma adesso dice Mi dispiace bravo Ma vogliela dire in live Perché non mi se ne ha Cazzo è andato Hai tolto la salva Ah eh Sto scappando la pelle Un tuo alleato è appena rientrato Sì A me A me di per sé A me di per sé Il sangue Non impressiona Un'altra 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 Intrugge infame Vabbè dai Bravo Foggi Arrivo Arrivo Vado giù Vado giù Vado giù Sono i nuovi due team Qui Senta anche sorpresa Sono quattro sotto Uno sul tetto di metallo Non ci può altri Non ci può giocare Non ci può giocare Sono sto cazzo di camp Eh te l'ho detto Che ero sul tetto di metallo Stella Eh però Mi scena Un po' scendere E lo sto aspettando Ma non scende questo Eccolo Dove cazzo sei? L'ho fatto Ah ok Fatto Mi è troppo lento Il faro è lentissimo È in giocabile Sì È da dentro Sì Sì S'hanno traiettato Stato l'obb Sì sì Ciao 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 Ma schiusi Ho più di colpi Moon time È moon time ragazzi È il momento di mandarla a casa È monta Chi è monta? È un collega loro Forse No 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 Porca Ciao 3G È ancora una foto Raga Ma va Ponta Lo prendi Lo giri Al contrario Guarda Che cazzo Foggi Allora Di sfondare Ma va Secondo te Ecco Questi Questi Anche Una cosa Che amiche riesco a fare Nessun Io Che schifo Ma monta in bravino Vado Che merda Presti tornati alla normalità Tutti di me? Bastardo Alla mira Ciao Ciao Daryl Tutto bene Te come stai? Guarda che si è fermato Abbiamo Lato abbiamo tetto di prison Perfetto Camperate lì Oh è passato sotto Apricci le casse Apricci le casse Apricci le casse Apricci le Apricci le È andato sotto Non ti preoccupare Marius Dai 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 Se l a pasci Non se lo facci Dai Ce la fai Si lo so D couper Peccato Avete la mia estrella Truce E qua E ci Au Dai Qui Grazie Tungva Si accorno Dopo che gioco Il pad Poi Mi Si Blog Oh Oh Ragazzi Mi è legno 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 da subito il modo con una piastra poi auto auto che abbiamo sopra va vai a cagare mario mi sapevo una piastra in silenio non ne ho pure io no non possiamo pushare cosi senza chiesto c'è uno lì dentro eh andrà ragazza andrà in questo caso questo virus se l'ha inventato si si incredibile di cui ci sono due cose per stare fermo a farti la kill e gente camperata ragazzi salma e questo è morto eeeh eeeh teo eeeh di collina niente siamo morti io non trovo piastra come è data la live cosa sta cosa stai facendo ma eeeh ultimi cinque resistiti no all'ultimo oh non ci sono colpi piccoli oh non vuole quella cassa puzzosa sono altre munizioni Simeone 97 questi sono 411 si sono full il team di monta insicuro 2 contro 1 non si ripeterà via la casettina la squadra è grazie per il like si cresce pian piano eh si ma infatti senza fretta senza fretta si cresce si divertono giocando così volete salutare a monta e no questo no comunque possiamo anche salutarlo dai monta cheater tutti qua monta cheater questo è un camper questo è un camper giuro si un pochino vabbè sono i suoi compagni di scuola monta citta monta citta coglione bastardo ti do le sberle maleducato maleducato sozzone sporcaccione ti sculaccio ti sculaccio maleducato no non sono amici ragazzi sono amici cattivano 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 monta città non mi conosce ma ragazzi non mi conosce bastardo passo a rompergli le balle in live a luna stiamo scherzando ragazzi abbiamo detto cinque minuti fa c'è solo wallac però è bravo ragazzi è una buona mira non mi ricordo come lo sai che io uno dei membri ha presso la connessione no aspettate aspettate come si scriveva il nome di un col 7 ecco non mi ricordo come si chiama monta in su facebook come com'è che si chiama monta in su facebook monta in così e ne c'ha i numeri c'ha robe strane mi ricordo c'ha dei numeri in mezzo alle balle no moon sette ein ci stanno tracciando stacca stacca vado a gg per loro vabbè honestamente non riuscivo a confermare quello lì mi facevo da silinghi e poi erano comunque morti avessi messo a terra ho capito tu che lavori nel napoletano no mi hanno portato l'altro ieri un doce che è una specie di zeppulina vita io sono passato già da Prambo che è una specie di Nutella e io sono passato né da una né dall'altra mi devi un favore appoggio non posso tenere la vostra live ha aperto e sento la mia voce questo con le ricottole mamma stacca 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 grazie per il like ma marius ancora non ero passato né da tre né da forza ma fa game ha detto che non era live si maledetto maledetto tutti crack tutto crackato questo ma è chi ieri raga dovete vedere che ho combinato su GTA Alfio si è preso io se mi fa da ci andiamo a fare il giro sbaglio il comando dovevo fare si ci ha scritto sedia io faccio sedia e comincio a ballare in questi giorni probabilmente anche stasera devo vedere come sto facciamo la seratina horror che dobbiamo finire Amnesia che l'abbiamo lasciata lì in sospeso da mo direi che Amnesia possiamo finirlo almeno devo essere sincero mi ha deluso molto rispetto ai capitoli precedenti per la questione del mostro però c'è il gioco carino infatti poi in questi giorni tra l'altro voglio anche che ci sia Mario su una di queste sere facciamo un giro su Itch e vi faccio vedere un po' come funziona no no Itch è un sito che poi ti farò vedere perché è una roba fantastica che io adoro e su cui io mi cervello sempre venite a fare l'oddy? io l'ho fatto vi lascio i soldi fate quello che volete Sì 45005 cazzo moni per favore e intanto foggi no ma questo camper di merda cazzo moni c'è raga sono due team su bio eh bel bombi così rientra subito anche a Decon ed è con bio pieno bio due team c'è un po' di casino a bio comportamento di precisione alleato attenzione ah come no era di come distruzione di come doppiamente distruzione quello era il camper marietta che cazzo vai vai cagare veramente un po' io entro un po' è impossibile può falto che cazzo vuole tutto è certo io non l'ho capito cioè allora va bene va bene va bene fermo 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 io voglio capirlo questo fermo guardimi li stai accusando un po' troppi mi ti devi calmare un attimo io ce ne sto segnalando un po' troppe vabbè eh non lo so io picco io picco questi qua mi faranno già vabbè ci sta arrivano mi sape una piastra io se vedi i topi ce le ho dietro maria dietro stanno salendo dietro eh raga attiva la torretta maria la torretta ah si è andato bene va bene maria su su di me ce n'è uno uno in volo uno sul tappo ma che cazzo stava facendo questo quello di prima va bene dopo welder 3 si 28 colpi si ma che cazzo di ratto schifoso che sei ratto 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 man comunque mi segnava gente ancora qua sopra raga ma cosa è successo non mi è comparsa a me la segnalazione ma che cazzo è sta roba ma anche a te no no io mi sono fatto spottare a fuori in fondo è uscito fuori si ti lascio il cordolo c'è un soldato nemico scazione finita potete tornare a respirare no non dovevo scavarsi al muretto qui c'è ma la fi nemico attivo che c'è c'è uno davanti a terra c'è uno davanti a terra c'è uno davanti a terra non so se era la nico quello che ho fatto eh dazzone ho letto cazzone per un attimo che era dazzone su di me raga non hit a mezzo colpo eh eh dpsh infatti ma lo so che so bravo non c'è bisogno di me lo ricordavi dice sei bravo così certo che sono bravo lo dice mia mamma sempre bravo fuggì cheat 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 che c'è c'è uno sul tetto raga aia eh c'è uno nella cascettina davanti a noi quella su dove c'è l'inicottero eh non c'è bravo eh lo so maria hai ragione no ma questo è stato giuro no dietro amici che non piangono più mamma mia truce ma questo mi stava cazzando non ci credo che paura oh sole mio oh sole mio ho il tuo alleato appena rientrato ho l'altro mortale tale um una nuova dove stanno mori questi hai visti te qua la casettina davanti wow 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 ma figa guarda aspirati del cazzo io raga io raga non riesco a capire una cosa io raga non riesco a capire una cosa questi mi loccano e non mi lascio più sia questo fraglu che uno che si chiama cod uno qua davanti raga all'oddy camper di merda guarda la figa sembrava che ci avesse un po' di aimbot tipo lì che ci ha lockato perfettamente entrambi sei morto anche te da quello del sotto passaggio eh no mi sono bloccato eh all'acchio all'acchio secondo me raga questi qua non sono normali onestamente questo mi ha detto cheat 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 e hanno iniziato a laserarsi così non lo so eh ora chiedo chiedo un amico chiedi consultazione chiedo il bar chiedo il bar che cosa avete notato di quando si rientra con queste mitraglie che danno e non è ah guarda mezzo di precisione nemico vabbè dai vabbè dai cosa mi sei corso in faccia su di me si doveva mai rispetto qua davanti il piano sei è davanti a te ero il piano terra te lo non ti ho visto giuro 9 secondi 5 sono tutti gli camperati dove esco esco ci sono questi qua raga io vado madonna ce la fai colpirmi io mi sa che non spono più non capisco no camperati agli angoli è incredibile no capisco questo qui non sono riuscito a metterlo a terra perché eh cioè ma vedi che io non faccio danno secondo me è una build sbagliata del ppsh no mi sa che hanno fatto qualcosa questa è la vecchia foggy si hai pure il silenziatore così l'oliatore è della vecchia build dai due camperati ancora sto con te ma mario se facciamo ancora una e poi proviamo il gioco di la vediamo una mezz'oretta tanto io poi 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 stacco che devo andare a giustettare la live mio fratello si vecchio verso 6 e un quarto così vi faccio la barbiere mi fa sempre uno camperato e questo è di nuovo camperato foggy è scaricato il gioco no carica dai 20 giga ma che devo come si chiama raga su epic games su epic games andate nella sezione negozio ci sono i giochi gratuiti è uno dei tre giochi gratuiti che potete prendere insieme a tom rider knockout city e l'altro non mi ricordo cosa sia mi pare sia un single player no è per il controller principalmente per il controller però mouse e tastiera utilizzabile cioè io lo sto usando l'unica cosa per mouse e tastiera si vede che non è che non è stato impostato per mouse e tastiera perché tipo a parte il fatto che è uscito l'anno scorso e sembra essere un lavoro indipendente ho visto che un po' di comandi di mouse e tastiera non ti dice quali sono bene o male ah proprio ok si è un bug che c'è e basta knockout city knockout fa il guise ma perché non esce eh guarda è nei giochi gratis nel negozio ah ok un dragone ok ottieni un dragone non doveva andare così bello 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 vero bravo ITGAME quando fai queste cose qua bravo si è un bel gioco di quelli giochi con i tuoi amici li uccidi un po' così in compagnia nella libreria installa ora mmmm sto installando ma perché fortnite non lo vedo? ah sì perché ho rimanato tutto il gioco devo solo il pc e sistemare tutte le tre cose delle pc come installa oggi? perché? perché ti può usare origin perché è un gioco di origin in realtà ma ce l'ho di origin in realtà sì sì semplicemente ti fa andare di là no no intendo perché mi fai installare origin perché io ce l'ho devo qualche vabbè comunque 20 giga ci metto 10 minuti eh ti avvicina rapidamente non ci vuole niente io l'ho scaricato su 10 ehm in 10 minuti dovrei scaricarlo sopravvivete per fare inchiarare i caduti e accumulate punti perché sordino più in fretta io caro mi sta restando questo mario mi sta restando questo mario ce n'è uno dietro mario mi sta restando da dietro dov'è? sto piccolo no sono chiuso eh vabbè sul tetto tutti e perra due eliminati tutti e perra questo è il mega afro questo è il mega afro pastiera di merda devo avere un minuto per sistemare sta cosa e mi sta frizzando il gioco porco di sì mi rende un bel non sei manca ciao fabio come andiamo? c'è un nemico su di me? il nemico è sulle tue traci ma attenzione ha arrivato un nemico attenzione in alto hittok ohle mi ha fatto un hitdocker ah 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 mio non è merci un tocil dopo fai una ti commercà tagga ed è un hitdock ci è? nulla, non c'è nessuno dimmi tu Nesse Si me ne ha pingato uno piano terra Ci metti un po' a mirare però Maria Non devi mirare No no intendo in ADS No Mario che cazzo di PPSH è Non si mira con quello Ho capito amico ho mirato Non riesco a sparare con questo in Si si anch'io ho fatto anche lì Non riesco a capire che cazzo è la cosa che c'ho sopra Che cazzo è quello Non ti interessa il mirino è per agganciarmi a dire da mirino Si è se vuoi trovare una guerra Ma che mirino è? Non mi ricordo Quale è la build Uno su casa di casa della morte come si chiama? Living, living Living Oh è questo Oh è questo Di nuovo Tazzone Oh di nuovo 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 Bravo sei a camperare Bravo Figa si stanno camperando Camper di merda Camper di merda Non vedo un cazzo Non vedo un cazzo Non vedo un cazzo questo mirino Non so che cazzo Ma che vedo ma il mirino non si può cambiare Ma gli hai dato il mio PSH? Eh L'odio è camperato Eh L'odio è camperato L'odio è camperato ragazzi Oh di nuovo Che fallo Aprite cazzo aprite cazzo Così è così Oh guarda guarda Guardali che camperoni Guarda Adesso vuoi quanto cazzo è la camperata Guardate Bravi Bravi Grazie arde тории I rinforzi sono in arrivo! E io non sto accanto a ranno Oh no, il mirino è brutto, magari la build è buona, ma il mirino è brutto I pugni wifi in culo te li devi mettere, da zone di merda Si guarda, lascia perdere Mario, me ne ho fatto Guarda, guarda la killcam, guarda Si lo so, lo so Mario, lo so 5 metri ci sono, dai dai 5 metri ti aggancia e lui fa 5 metri, poi ti aggancia e lui fa 5 metri ancora Ti aggancia ancora e fa 5 metri Beh come fai da questo c'è culo Eh, vanno tirando in giro Ma Brambo è anche per console? Eeeh, non lo so Dovrei informarmi Potrebbe, visto che è un gioco qui No, non è gratis No, è un gioco a pagamento, raga Va bene Vabbè, andiamo Il buio Gennario mi fa di notte Andiamo a giocare un po' a Fortune Skip Giuro ragazzi, siamo andati su Fortune Skip Avevo fastidio agli occhi A forse giocavamo, avevamo fatto 5-6 game qui Appena sono andato su Fortune Skip Mi facevano male gli occhi dovuto abbassare la luminosità Perchè mi ero abituato con un po' E io gioco tutto al buio Guarda il monitor tutto scuro Appena siamo iniziati su Fortune Skip Ma non di te se mi sta vendendo Abbiamo fatto per subito la win Alla che fai? Andiamo su Knock Knock? Eh, se vuoi farti una mezz'oretta A tempo che... Tanto io faccio 20 minuti Faccio 20 minuti e poi chiudo Tu che fai, Foghi? Eh, vengo di là però Dovete una minacchina che io non ancora Sì sì, tanto... Qualcun'altro che se lo scarica? Andiamo su Discord intanto Sì, ci ho messo un pochino io per farla No, no, per Origin No, no, per Origin No, no, è Origin, Origin Sì, sì, ma è un casino Vabbè, eh, andiamo, dai Cruce, eh, non so Ci puoi venire No, non ce l'ho il gioco Ma è computer? No, 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 non ce l'ho il gioco La PS4 Sono un povero Vabbè, dai, andiamo di là Grazie, cruce Eh, su Discord, Mario, ci becchiamo Ciao, ciao Arrivo Ciao, ciao Andiamo a provare No, Couch City Sì Sì, non si chiude con la sua No, Couch City No, Couch City No, Couch City Pronto? Eh, Couch City Eh, Biblioteca Ah, no No, Couch City Vabbia Intanto, andiamo su Discord Discord Sì Un po' le facciano direttamente Chiama Palomino Palomino se Grazie a tutti Marius Maria Che cazzo di lancio Dov'è Marius invece? Ciao 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 Ottimo Ottimo Richiamiamolo Perché sennò Questo non rampa a po' No L'hai settato in modo che non veda le stanze Non l'ho settato io L'ho settato io Però questa musica mi dà fastidio Ma viettone Tre giorni sono da te Mi fa insordine Aspettate abbasso l'audio Scusate Scusate No Perché sei alto Capito No Mi ero mutato in game Scusate Ehm Aspetta abbasso Vediamo Social Invita amici Cerca i d Come ti chiami Marius Ma mi posso chiamare Ma mi posso chiamare Marius Trattino basso Scusate Perché ci sto scaricando a 54 Mbps Ah Ora lo sento troppo basso Foggy Perché? Ti ho aggiunto come amico Aspetta Te posso stare male l'audio di Foggy Che non lo sento proprio Mi devo fare una roccia Che cosa sono delicane Ok Chi siamo Ehm Come esci dal menu principale Richiesta social Marius Gamer Jogatori attivi Cerca 30 per gente Ci siamo Ci siamo 30 per gente Brambo Accetta Accettato Allora 3v3 Sto gioco è bellissimo raga 3v3 si combina il delirio Giuro T'e 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 ti devono invitare? no no a posto a posto a posto no è semplice non è difficile cioè ciao bro oh perchè mi sento anche qua? oh no mi sentiva lasciato vocale oh fermo ho dubonga a cura ahah città guardavo è requisito E ci sono i casi 40 per 100 Bastardo Stiamo stannando Bastardo Bastardo Non lo so come fai quello Bastardo un game intanto Ok Un game dove? Sì Smetti apri il cotto se si rallenta No continuo ad andare a 5 in più Ma che è? Aspetta faccio gioca cosa posso fare? Partita privata dai Posso scegliere solo 3 di 3? No No Ciao c'è chi? Come va? Ci sono le tartarughe ninja in questo gioco Vado nella squadra oro Vai nella squadra blu Metti pronto Metti pronto Ah ok siamo pronti Uno contro uno Spacco Avete sentito sto film? Sì spacco Aspetta un attimo che devo abbassare il volume Comunque Meglio meglio So meglio oggi Palla luna Oh 4 avvi 3 si combina il delirio Ma com'è Brambo TTV? E' il mio account origin ragazzi è vecchio Oh Avete finito di gridare Raga Oh Avete finito di gridare Porco 2 Dovamo Dovamo mutare foghi tra l'altro No Devo abbassarvi i volumi Marius Ho detto aspetta Vieni qua Vieni qua Oh Te lo sei meritato brutto infame Ma che cazzo non lo capisco Pensavo che parlassi con Poggi Ma non ho capito se mi volete prendere a cazzo Ci dobbiamo prendere a cazzo Ti ho preso? No Dodgeball Con la palla Ah Ma 3 contro 3 1 contro 1 1 1 1 Ma com'è? Wow Che cosa? Tutti contro tutti anche Ah tutti contro tutti Onesto Ah dodgeball Ah ok dodgeball è quello di mi scrivare la palla Bravo Ok Merdina Do stai? Oh oh Madonna Mi sono stracagato Madonna veramente 70 colpi questo non crepa Vaffanculo Fai il figo perchè lui c'ha la palla e io no capito? Ma che culo Blu takes the lead Devo ancora abituarmi a sto gioco, guarda che era carino Oh vedi che bello è carino 80% Sto caricando tipo a 10 Ma scusa Ma quella di essere di mia nonna No ma come Comunque io ho scaricato Warzone in 12 minuti Ma da ma bella Dovevo installarlo a casa di Staligo Il 96 in cazzo Bellissimo Merda mi lagge di per chi è sta cazzo Eh c'è già Eh scarichi e giochi Non mi avrei mai bastardo Appugni in volo, insomma ideale Oh In volo Ho gradino Eh sì vabbè Scusa Scusa Non dovresti riuscire a prendermi se sto lasciando Non ha senso Guardo fortissimo Continuo a sbagliare tasse No 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 Bellissimo Ehi Questo è abbastanza bene Ciao Fede Io contro Brambo Io contro Brambo Io contro Brambo Buongiornissimo Per il momento Stiamo 4 e 2 per me Sì ma qua non hai detto mai l'ultima parola raga E' un gioco a sera Vedi No perché mi hai preso la schiena stronzo Non la chiappa se sono di schiena Com'è giusto che sia Ora che stalle ci sono morire Vai vai Tanto gli do una lezione a lui Vai ma è sta cosa che mi fai mi sta facendo tutto il show A voi smettere Bastardo Oddio l'adoro Come si chiama sto gioco? E' Knockout City Knockout City E' gratis sui Steam Sui Epic Games Scusami Ai basta Ma come lo fai adesso? Come le sono, stu'pià ha tutti camperati Oh Ho fatto due eliminazioni in 20 secondi che mi hanno parato il culo eh Dai 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 da 1 a 0 per me Che peso sulle palle è carino con me e 3 sulle palle presto stessa ma pensavo cambiasse ma sono caduto abbiati del punto ecco la cosa che non mi piace questo che si dà il punto va bene ma ci sta perché tu puoi farlo per scappare da qualcuno e io ho sempre la ragione maris ma la ragione dei festi non te lo vorrei dire c2 a c2 si da quello che ho capito mario se quando sei in situazioni cerca sempre di parare o di schivare no schivare è difficile se ti vedo non te vedo ma c'è il segnalino rosso no che tu mi inquadri si ma si sta raggando nooo nooo eeeh sto volando via aiuto e me l'hanno pure sciolata ovvio ovvio così nooo ho mai dato il tasto bastardo falls ahahahah no 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 dove neva tanto porco's chos no, 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 no perché non mi usciva il nome di questo? mi chiedi campanato lì la prima casetta prima casetta dietro ah 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 ah, è stato proprio quello che è... si e basta Perchè vado a essere giocata stra bene qua Eh ma t'ho spinto giù Marius cosa pensi? No no t'ho spinto giù io opposta guarda Ma poi io ho preso la X E comunque usa ma te sei su controller Ma questi non si sentono manco i passi oh dio bello No si da controllo Zero passi zero 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 passi Zero Zero passi vabbè E perchè il tasto Ehm Come si chiama mannaggia non mi viene Il tasto quello per fare le pirouette presente E' un doppio questo qua vedi quando io faccio questa E' quello per fare il pallonetto no l'altra Esatto quello li puoi usarlo per fare dei salti un pochino più alti Quindi quando stai cadendo fai quello per salvarti Guarda che approfittatore di merda Guarda che approfittatore di merda Ma ti segnalo per chitting ora Vi pigli atti stati Non ci credo Che ridere mio Che ridere Mi sono ammazzato da sotto Guarda non potevo aspettare Guarda Guarda Quanti Ma va era camperatissimo questo No vabbè è assurdo Che non ti puoi rompere le ginocchia così Che cazzo del gioco de merda Che non ti rompi le ginocchia Che ti butti così Ti tagli il baracadute E' piuttosto del normale Si E' veramente è bo... Guarda E' un sito Si Oh che c'è giusto io ce l'ho con sto sbatardo E' una buon parata Siumooo A che punto sei bre Foggy? E' sto arrivando E' tutto nero Oh yes No ci devo fa la foto ho preso la corrente brambo tv devo fare la foto vale denunciarmi ok vuoi continuare intanto? stai entrando? mi serve un'altra persona però perché sennò siamo due contro uno eh sto aspettando ragazzuoli e vabbè facciamo noi contro altri scuse molti te vede un putto nero guarda vediamo un attimo se andiamo al nascondiglio la ti ho mandato nel tuo gruppo bravo vinta la famo? eh io ho tempo per fare una partita ancora eh io sto cercando di entrare ah questa qua viene qua? guarda guarda che cazzo di missile no questa qua è l'arena di riscaldamento ma io ti ho amico su epic o su sei entrato foggy? sto entrando ancora cosa vuol dire sto entrando? dimmelo perché io devo cioè io c'ho cioè vuol dire che io ho aperto origin vuol dire che ora sto rientrando non c'è un'altra partita perché è appallonata il botto sto prendendo io oggi devo entrare proprio su GTA e mi devono consegnare la macchina ma non posso poi il prossimo mese fine settembre mi fanno valore alla persona di data un calto foggy guarda qualunque ma che cazzo di personaggi ho? l'ho appena sbloccato ma come l'hai sbloccato? non lo so Cosa è questa? What? What? Che figata Aiuuuu Va bene Io ho il gioco tutto nero non so che cazzo fanno Vabbè Foggy e Marius facciamo un'ultima partita che poi devo andare io Vai 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 Il mio gioco si è aperto ma è tutto nero Bastardo che mi hai sparato Non so te Se tu sei fatto esplodere qualcosa Vabbè dai Marius facciamo ancora uno contro uno Vai 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 uno più uno dai Perché poi Foggy andare a barbiere se non ce la faccio Lascio stare Foggy poi appena vedi di sistemarle lo portiamo anche pomeriggio o anche sera Ma Marius sta andando più di così non so che fare forse dovrei avviare il PC Non lo so Non lo so Dai eh È un armadillo a quanto pare il mio personaggio Ah questi qua ci sono i tubi è bellissimo Ho visto che puoi anche lanciare la palla dentro il tubo Ma guardalo Sto tutti i tubi di merda Sei sotto il cazzo ora Manda venti sub se non lo manda a zucchine Mi ha dato immagini Sì Guardate a volte che mi sai che di queste cose non mi dicono nulla eh Non è giusto però che io non guardo il pavimento È una cagata sta cosa dovevano fare Sento odore di Kraffian in casa mia Wow Questa cosa è buona Arrivo Grazie a me Ma vaffanculo te la tua palla di merda Io io opterei per non usarla comunque Me l'ho buttato in mezzo ai funghi e ne sono uscito a cappellate Che cosa opterei per non utilizzarla? La palla da cecchino abbastanza OP Sì Vero Cioè vedi Ma dai mi sono lanciato io là Vabbè dai I social Easy Non è vero non è Ma chi si va a cagare Mi sono lanciato io da solo Manco mi hai colpito E tu non mi hai ancora risposto Vabbè ora ce l'hai tu Non ce l'hai più Non ce l'hai più L'odio Ma se mi dici sembra che sono un tuo rotolino amoroso Tu 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 da 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 Esatto Perché se non sei tu 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 da 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 Non sei niente Che minchia ho fatto? No no Mario dice che dovrebbe essere il nostro trottolino amoroso tu 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 da 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 Però se sei solo trottolino amoroso qui non facciamo niente Ricordatevi che hai due poppe Vabbè vanno ancora vantate Sì sì stupido però È l'unica cosa che non è dispare nella vita sono le poppe Le palle hai detto? Le poppe le poppe Anche le palle Non è Quelle possono essere dispari Guardi anche qui va Guardi anche qui Fede Nooo Svedo tanto Pannaggia a me Mario è la più bella del mondo Dai Cheater 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 Sì Ma davvero c'è di 5 in quel gioco? In teoria sì In teoria Eh volevo giocare a knockout Fede Sì però non mi si apre tutto nero A tardo ho capito come schivarlo Vabbè non è tanto difficile da schivare Vabbè non è tanto difficile da schivare Ciao Nooo Lui schia acqua purra Guarda che culo che c'ha lui che non ci va a finire sotto Ti rendi conto? Ma va a cagare Va a cagare Guarda sono caduto Va a cagare Ma va a cagare Guarda il mondo Da un bloc Non Si Nooo 5-2 5-2 La tua è arrivata tra l'altro Mi dissocio proprio E io spero che mentre camminano per casa Quelli che si cambrano con la skinner agli angolini Vadano a calpestare un lego con il pollice del piazza Vai t'ho fattuto però No! No non ho fatto Succa 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 Fanculo 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 Svegliato tasto Ma dai Il campione Dino Cout City Sono io Vai ragazzi Devo scappare Scusate se chiudo la live così all'improvviso Ma devo andare di corsa giù Bella raga E niente ragazzi Noi quindi ci salutiamo qui come sempre Un bacio e un abbraccio dal vostro Brambo Fate bravi, fate buoni Ci si vede prossimamente con una prossima live Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao